Una razionalizzazione del flusso dei rifiuti e un'accelerazione su nuova impiantistica. La corsa del governo musumeci va a concludersi in vista delle prossime consultazioni di autunno. Anche ieri però l'assessore all'energia Daniela Baglieri si è presentata all'ARS per delineare il bilancio di circa un anno. Da quando cioè ha ottenuto l'incarico sui rifiuti, però l'emergenza continua imperterrita. Per l'assessore le criticità rimangono ancora tante, da quello che prevede la legge 9 del 2010 fino alle SRR che ha spiegato lavorano a macchia di lopardo. Ci sono infatti SRR territoriali che non riescono a rispettare gli obiettivi. La crisi dei rifiuti, l'ennesima, da un anno la sta pagando a caro prezzo, soprattutto la discarica a Timpazzo, sottoposta alla pressione dei conferimenti ulteriori che arrivano principalmente dall'impianto privato di Sicula Trasporti che serve l'area etnea. Tra quelle falcidiate dai rifiuti in strada, Baglieri è ritornata più volte sul concetto, spiegando che l'emergenza non può essere a detrimento dei singoli territori. Sul sito locale è stata piuttosto chiara, ha spiegato che l'emergenza non può procrastinarsi. Ha detto infatti che Congela si è impegnata affinché fosse una situazione transitoria. Al momento però il suo assessorato e il dipartimento a cui rifiuti continuano a concentrare il surplus proprio a Timpazzo. È stato depennato il limite massimo giornaliero di conferimenti. Il gestore della discarica locale, la società in house impianti SRR, si vede costretto a dare disponibilità anche fino a 950 tonnellate al giorno. Si attende l'esito di un ricorso al TAR, che però non sarà immediato. Numeri che secondo il presidente della Commissione regionale antimafia, Luisa Lantieri, pongono il serio pericolo che Timpazzo si saturi. In quel caso i rifiuti dovrebbero essere trasferiti altrove con un aumento netto dei costi. Lantieri è intervenuta anche nel corso del dibattito di ieri. La scorsa settimana con la Commissione aveva sentito in audizione sia il sindaco Lucio Greco, sia l'amministratore di impianti SRR, l'ingegnere Giovanna Picone. Per Baglieri invece sull'isola l'attività per la gestione dei rifiuti è frammentata. Ha citato il riferimento all'SR, ma anche agli atto in liquidazione, agli aro e ai comuni. Ritiene inoltre che non si possa alimentare una guerra tra territori e va implementata l'autonomia e la prossimità nel ciclo dei rifiuti con un aumento dell'impiantistica. Sui nuovi progetti però ci sono ritardi e territori come quello locale sono ancora più penalizzati. Il sistema efficiente della piattaforma di Timpazzo fa fatica a resistere all'impatto costante del surplus che arriva da altre zone dell'isola. Le opposizioni con in testa PD e Movimento 5 Stelle hanno già archiviato come fallimentare l'esperienza del governo musumeci a partire dalla gestione dei rifiuti. Anche ieri nel corso della dibattito in aula, gli esponenti del PD e del Movimento 5 Stelle hanno nettamente contestato la linea del governo regionale.